E' dedicata ai nostri ragazzi, noi siamo un'associazione formata da genitori ed educatori che hanno una persona autistica in famiglia, un po' meno grande, un po' più piccolino e siamo quasi tutti i residenti a Monte di Procida e siamo per la prima volta in piazza perché per la prima volta la piazza è stata dedicata ai nostri ragazzi, come vedete ci sono tantissime attività per i nostri ragazzi. Buongiorno a tutti, benvenuti, è una bellissima giornata di festa e di sole. Allora voglio far dire due parole al Presidente dell'Associazione AMA, Giuliano San Martino. Giuliano. Ciao a tutti, sicuramente sono emozionato, sicuramente questa giornata faranno felici molti genitori, genitori, diciamo genitori di bambini ragazzi autistici e questo è il nostro obiettivo, è quello dell'inclusione dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, dei nostri giovanotti perché poi stanno crescendo e quindi ringrazio Simone e Daniela Sconto di Carlo e naturalmente l'amministrazione che sta dando voce a questa problematica. Sono velocissime, voglio ringraziare tutta l'associazione AMA, l'associazione AMA, i bambini, i ragazzi autistici, una patologia che è molto precisa, che è molto conosco, l'importante è quello di far sì che questi bambini, questi ragazzi siano inclusi, non vengano lasciati da soli e questo è un bellissimo momento, questo è un bellissimo momento di vedere questa piazza piena di ragazzi e di genitori, ringrazio Daniele e Simone che hanno organizzato questa iniziativa, spero non sia l'ultima e non sarà sicuramente l'ultima perché sono le risposte che noi dobbiamo dare, dobbiamo dare a tutti, a tutti i cittadini, in primis alle fasce pubbliche, come abbiamo sempre detto e che così faremo per il nostro presidio per l'attività amministrativa. Questa giornata è dedicata all'autismo e sono qui con Anna, la mamma di Gregory, è stata la prima persona che ho conosciuto, Anna ti ricordi in campagna elettorale, quelle due parole che ci siamo scambiate, guarda l'avevo preso proprio come me l'ero appuntato, di doverti ritrovare e ci siamo ritrovati, è stato un piacere, è stata una bellissima giornata, molto partecipata, abbiamo avuto molte persone che si sono offerte addirittura di fare parte dell'associazione che vogliono dare una mano e questo era il primissimo obiettivo della giornata. Anna, cosa mi hai detto prima? Che non ci sentiamo più soli, grazie comunque a te, grazie veramente all'aiuto che ci avete dato, al supporto. Speriamo che questo sia il primo passo verso qualcosa di più strutturato, più importante per i ragazzi. Noi abbiamo degli obiettivi, abbiamo degli obiettivi e li dobbiamo portare avanti. Sì, e voi ci avete dato voce, quindi questo è importantissimo. E dobbiamo urlare forte. Sì, infatti. Grazie Paco, un bacio a tutti. Buongiorno, siamo contenti di aver aderito in quanto associazione Factotum e Spazio L per i nostri progetti alla giornata per l'autismo qui a Monte di Procida. Passo la parola a Veronica Romeo, coordinatrice del progetto Librando, che è quello che stiamo presentando. Buongiorno a tutti, con la nostra partecipazione diamo la possibilità alle famiglie e ai bambini di poterci conoscere e di scoprire quello che noi facciamo durante l'anno. Siamo qui con tutta la parte del nostro staff, presentandovi le attività di cui ci occupiamo, lettura, musica, movimento. E se volete scoprire di più, seguiteci sui nostri canali social Factotum. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Siamo la S di Ghigge. Siamo felicissimi di aver preso parte a questa stupenda manifestazione. Ama. Quindi siamo felicissimi. Bacio a tutti. Buongiorno a tutti. Stamattina stiamo in piazza a partecipare a questa bellissima manifestazione organizzata dalla dottoressa Danila Scotta di Cal. Siamo con i nostri ragazzi sia del basket che del basking, che oramai è diventata una realtà solida in Campania. Dopo aver partecipato al torneo di Bordenone, tra un paio di settimane inizierà pure il campionato di basking. Ma la cosa più bella è vedere tanti sport, vedere sia pallavole, ginnastica, vedere tanti bambini che si diventano. Speriamo che questo sia solo l'inizio, che piazza 27 Gennaio diventa un punto di ricreativo per tutti i ragazzi, come una volta, come dicevi tu come una volta, ma credo che con l'impegno nostro e dell'associazione ci riusciremo. Buongiorno a tutti, ci troviamo qui in piazza 27 Gennaio, la SD Montevollei. Saluto mia sorella, Annalisa e Ciro, il Presidente, che hanno lasciato a me il compito di rappresentare la società per questa manifestazione. Siamo felicissimi, c'è tanta gente, siamo contenti che il Comune ci abbia chiamati per poter rappresentare lo sport della pallavolo qui in piazza 27 Gennaio. Gremita di gente, quello che volevamo, grazie, grazie veramente a tutti, al Sindaco, al Comune, a Daniela Scorto, grazie di tutto. Buongiorno a tutti, siamo in piazza 27 Gennaio, California Club c'è per questa bellissima iniziativa promossa dal Comune insieme all'associazione Ama e siamo qui, c'è Rosalinda, c'è tanta gente, questa è la cosa che ci interessa perché è importante esserci per queste manifestazioni importanti. Un bacione, è bellissima come iniziativa e speriamo che sia la prima di una lunga serie. Ok, io faccio un saluto a volo, anche perché mi aspettano tanti bimbi per giocare e per divertirsi. Questa è una bellissima giornata, siamo stati fortunati perché c'è un bel sole che splende in alto e speriamo che questo sole splenda sempre per queste iniziative che sono eccezionali. E' importante sensibilizzare tutti gli adulti, i bambini riguardo l'autismo, dobbiamo fare in modo che si creino sempre più occasioni di aggregazione e di stare insieme, tutti quanti insieme, tutti, tutti, indipendentemente dalla situazione del bimbo, del ragazzo. Ci sono pure tanti ragazzi qui. Se Paco fa una panoramica possiamo vedere che lì ci sono ragazzi più grandi che giocano a pallavolo, che giocano a basket, da noi chiaramente si avvicinano ragazzini più piccolini, bimbi più piccolini, anche perché abbiamo messo su un'attività stamattina che richiama l'attenzione di una fascia d'età più bassa, diciamo. Buona domenica Paco, come vedi la piazza è gremita di persone, di ragazzi, di bambini tutti insieme per AMA. AMA è un'associazione bellissima che insomma aiuta i genitori dei bambini, dei ragazzi con lo spettro autistico e questa manifestazione organizzata veramente egregiamente da Simone, dal consigliere Simone Esposito e dalla consigliera Daniela Scotto Di Carlo è un esempio, una testimonianza che la comunità di Monte di Procida risponde con allegria, con gioia, con veramente inclusione per questi eventi. In realtà l'obiettivo della nostra amministrazione, di tutta l'amministrazione è come diceva anche Simone, rendere finalmente visibili gli invisibili e quindi accendere una luce, un faro su insomma la problematica di questi ragazzi, delle famiglie e far crescere la consapevolezza di queste differenze individuali per renderli inclusivi nella nostra comunità. E come vedete oggi è una giornata di puro divertimento, siamo felici e sicuramente siamo sicuri che riorganizzeremo nuovamente questi eventi. Vero Simone? Verissimo, ha già detto tutto Mary Lou e ringraziamo tutti per aver partecipato, siamo contentissimi e finalmente il nostro obiettivo di rendere visibili tutti sta pian piano riuscendo, quindi ringraziamo davvero tutti per l'organizzazione, ringraziamo l'associazione AMA, tutte le associazioni che si sono messe a disposizione e sicuramente ripeteremo questa iniziativa al più presto. Sì, infatti un ringraziamento soprattutto anche alle altre associazioni, tutte le associazioni sportive che si sono prestate per questa giornata e ancora complimenti a tutti, buon divertimento. Grazie a tutti.